Buonasera, è il nostro Tercevo Games, è Armando Guerra, buonasera! La quarta partita, su Pesce 1 e 15, campionato italiano, sempre casuola ragazzi, noi siamo così, a davanti a Milan, speriamo che stavolta vengo, sennò qua veniamo a casa, veniamo a vado, già sta, oh scuso, allora vediamo un po', vediamo, l'ho già quasi fatto, oh destro, Non è vazzito, destro, no, cosa vazzito? No? Cioè dentro, non sta innamorando Paletti, che paletti fa, vabbè, c'è Ramì, quindi... Vabbè, che scendola, mettiamo... Va bene qua, quindi... Ma sono pronto! Aspetta, se vuoi andare a attaccare, se non ti lo fai! E' forte, po' che? E' forte, po' che? Sottotutto, ok? Cosa c'è? Guarda che c'è fortissimo! Eh, perché va così? Quanto che va così strano? Quando va buona, mi sono due secondi, è un po' buona Assieme? Pronto? Siamo pronti, in questa sfida! Di salvezza! No, salvezza! Sì! Non vengono i partenziati a noi, non vengono i partenziati a noi Non vengono i partenziati a noi Non vengono i partenziati a noi Eh, vai già veniti! Ha vengono i partenziati a noi Un saluto! F吵ce, la scalla! E' vero, ragazzi! Sforzo, lo taglio! Ma perche' ce n'ho! Ma che è? Ma che cos'è?! Ma dai, 1 e 0! Ma no! E' un po' è buono ah è buono perché? come va a ciare? come va a ciare? come va a ciare? come va a ciare? no, se si gioca gli anni non è come si fa se tu non ci vuoi, non ci vuoi come va a ciare? opla perchè? come va a ciare? no, mi senti giusto a porto beh andate, che è sempre delico come va a ciare? come va a ciare? io non vedi, non vedi lascio la testa, non vedi non vedi ma non vedi mi senti giusto siiii oh come va a ciare? come va a ciare? come va a ciare? come va a ciare? oh oh destro avrà la bomba come va a ciare? eh, non è una sportiva Dennis, Dennis e non viene visto come va a ciare? 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 ci provo a German a come va a ciare? paratore di coppets il culpare di coppets ah 4-1 bucetti E' qua come c'è un giocamma? Come lo ha? Uhuuu C'è una seconda cazzetta No ci fai il giocamma Ci fai il giocamma Stai 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 Ci stiamo divertendo come sempre Giustamente E poi ci fai il giocamma Ah ci fai il giocamma E poi ci fai il giocamma E tu fai solo a me gioco con te compi Eeeh Eeeh E' un giocamma Ah non ci fai Ah non ci fai il giocamma Non ci riesci E' un giocamma E' un giocamma E' un giocamma E' un giocamma E' un giocamatore Anche si buongiorno il questo il io il te ti aprile ho trovato il peggio si arriva ancora e si ripica un po' di sede si ripica un po' di sede si ripica un po' di sede mi ha lasciato un po' di sede ma lo trovo di sede E' un po' di mani, non è che la fugga. Sì, è un po' di mani. E' un po' di mani, non è che la fugga. Hai, hai, mi nezzi? Hai, hai, sei, un po' di mani. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. questo c'è la verticalizzazione non è niente non è niente non è niente non è niente non è una costruzione in profondità Carlo Immona Cigarini ecco più bella mezzo auto-retti nemis il ma un po' c'è lui ma È una cosa che c'è questo? A questo? Che invited? Che è stato un po' Nooo È un po' giocate fuori di apporto devo giocare più piano bella wanda devi tu bella wanda? non ho fatto che c'era la scuola e va subito è caldo fai vai 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 è caldo si è caldo sai non lo so si sai stai eh si ma non lo so e tu che sfrutai i video? tu non mi so tu non mi so non mi so non mi so non mi so no ti sali ti sali ti sali ti sali ti sali è un po' felice amando ti sali ah non lo so eh no ti sali ti sali ti sali eh ti sali ti sali eh vada vado vado adesso lo vado 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 Oh, oh, ceci, ceci, cross e mezzo. Oh, 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 oh. Wow. Ah, all right, all right, all right? There's exactly one more who brings me the money to the side of the door. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ... ... ... ... ... ... solo il passaggio c c no 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 ma stuco stuco vabbè 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 vai cigerina vabbè l'elastico oh l'elastico rivediamo rivediamo ma ci prova ci prova lui cigerini ma lo più senti vai e c'è lui scavoli scavoli ce l'ho io vabbè non ti arredare vabbè no 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 ma è stato un lavoro cigerini 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 vabbè che ti stai a sbarlo cigerini lancio lungo la nex ah vabbè scatone scatone grande scatone no vabbè 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 c mother d originally s s f f via No, non ho fatto, non ho fatto, non ho fatto. Adi, ma ho detto, non ho fatto. Tu non ho fatto vedere, perché? E perché non ho fatto la mia vita? Perché non ho fatto la mia vita. È strana. Hai ragazzo il mio testo? Ti ho fatto il mio testo. Non ho fatto il mio testo. soldi il signor il signor l'attività l'intervista c'è bravo nuovo nuovo il 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 testo la legge un'altra un 4 ben forse per me alzio no stammerai in su stup 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 ah la bobbareggia eh ma alla fine serve un po' come in giro questa? come è inizio? che c'è c? cazzo di errata? non so se c'è un'epidemia non so se c'è un'epidemia vabbè tu ute sprays vabbè esistigono vabbè vabbè ma non c'è un c'è un po' ma non dico dei numeri si può provare rubale io sono rosa alzitore 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 il 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 e di che si raiare le valli e deve sapere no e tu ti capisci e tu ti capisci e finisce così ragazzi un 2 a 2 e tu ti capisci ehi ehi ehi